E' l'ogio dell'impurezza, perché l'impurezza dà aiuto aiutamenti, cioè alla vita. Con la visita di quattro scolaresche alla mostra I Mondi di Primo Levi, una strenua chiarezza, è stato celebrato a Palazzo dal Pozzo della Cisterna il giorno della memoria. La mostra, curata dalla città metropolitana di Torino e dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore e scienziato torinese, è prorogata sino a venerdì 31 gennaio. La proroga ha consentito di inserire la mostra nel calendario delle iniziative che il 27 gennaio di ogni anno commemorano le vittime dell'Olocausto. Avevano richiesto e hanno ottenuto di poter visitare l'allestimento, proprio nella giornata del 27 gennaio, una classe terza media degli istituti riuniti Salotto e Fiorito di Rivoli, una quinta dell'Istituto di istruzione superiore Gobetti Marchesini Casale Arduino di Torino, una terza e una quinta dell'Istituto Giulio Natta di Rivoli. Gli studenti hanno incontrato nella sala consiglieri della sede aulica della città metropolitana il vice sindaco metropolitano Marco Marocco e lo storico e collaboratore del centro studi Primo Levi, Guido Vaglio. Primo Levi oggi è conosciuto, possiamo dire, in tutto il mondo, se questo è un uomo, è tradotto in tutte le lingue, ma certamente, oltre alla sua figura di testimone, è un intellettuale che può ancora insegnarci molte cose. È un chimico appassionato di scienze, appassionato di matematica, appassionato di animali, ma anche di etimologie, di giochi di parole. È un personaggio a tutto tondo, di cui vale la pena di indagare non solo l'aspetto del testimone, ma anche tutti gli altri. Questo, credo, non metta assolutamente in ombra la sua importanza come scrittore della Shoah, ma anzi, ci aiuti a considerarlo nella sua pienezza di uomo, pieno di interessi, di curiosità verso il mondo e soprattutto carico di una pacatezza, che è quella che si ritrova nella sua lingua, nel suo modo di scrivere, di una pacatezza e di una precisione al tempo stesso nell'espressione, che credo che oggi possa insegnarci ancora molto. Grazie a tutti.